mi ce lo preparava mia moglie poi dopo la cena e tutto il tempo studiavamo io ero ero estinto proprio nonostante ero giovane era gli anni insomma era 30 anni fa io ci avevo 35 anni in 40 e mi ricordo che era terribilmente pesante difficoltoso c'è talmente tanto a lungo studiare tiberia tiberiade era una città terribile come minimo 40 gradi di temperatura nella stanza senza aereazione piccola edificio una piccola casetta dove possiamo andare andare tipo una specie di capannetta in campagna e io ero sempre continuamente in stanchezza così una specie di semi dormiente semi torpore e gradualmente io a questo stato mi ero abituato adesso durante i congressi questo stato mi sta ritornando e io di questa cosa sono anche molto contento perché questo stato è una stato di specie di rianimazione in realtà quando noi ci troviamo in questo stato di semi dormiente stanco stati così offuscati quando non possiamo concentrarci precisamente la nostra coscienza non è tanto seriamente che lavora questo questo è di se gli stati quando su di noi agisce la luce che ritorna alla fonte è lei che ci influenza a noi ci sembra che noi siamo stanchi non c'è questa cosa sono stanco in realtà proprio non c'è è soltanto un'influenza della luce che ritorna alla fonte dietro all'uomo sotto la nostra di nostra forma non stanchezza fisica in nessun caso non si considera qui la stanchezza fisica sapete come hai detto quando fa ritornare il creatore verso di sé un uomo una persona allora ma in che col mio cioè noi allora ci sentiamo come nel sogno questo è uno stato corretto di quando ci influenza la luce che ritorna la sorgente luce circostante cosa fa diminuisce l'egoismo iniziamo a non volere più niente vogliamo solo dormire riposare un attimo riesce a rilassarci difficile parlare e allora questo è lo stato migliore stato che può essere in questo caso ci influenza la luce circondante quindi apprezziamo questa stanchezza questa è la luce che ci fa rilassare e nonostante ciò fa iniettare dentro di noi la infusione spirituale quindi questa cosa è molto buona questa luce viene verso di noi in misura della nostra distacco dal nostro egoismo per poter riempire quel posto dove noi ci possiamo distaccare dal nostro egoismo non voglio qui non voglio la non voglio questo allora se veramente non voglio allora la luce interviene ed in in questi posti in queste qualità proprietà lui mi dà la possibilità di agire in maniera altruistica quindi per questo quando l'uomo sente la fatica indesiderio stanchezza allora in realtà è in quel momento che noi riceviamo le nuove forze e queste nuove forze ci stanno venendo dalla luce superiore anche se per ora ancora non ce ne accorgiamo di questa cosa non sentiamo non possiamo sentire la fonte vera non la possiamo percepire non possiamo stabilire il risultato anche questo viene è un processo di accumulazione cioè e come risultato dell'accumulo di queste influenze noi riceviamo in conclusione nuove qualità nuove proprietà ma per ora che ci faccia addormentare questa luce superiore ed in questo stato di semi dormiente quando non tanto possiamo autocontrollarci ecco allora che in realtà agisce su di noi allora è che cambia l'uomo cioè il creatore fa ritornare a sé questi esiliati sono stati esiliati da lui e allora loro si sentono chi colmim come nel sogno adesso invece passiamo al nostro tema luce che ritorna alla fonte noi in qualche maniera sembra che ci dimentichiamo di questo a noi ci sembra che per noi è sufficiente fare quello che facciamo ma in base a quello dobbiamo riuscirci a fare qualcosa perché perché nella nostra vita quotidiana non ci colleghiamo con nessuna forza esterna cioè cioè agisce su di noi sì se no no cioè non siamo orientati verso qualche cosa non siamo connessi con qualche cosa non ci attacchiamo delle cose qua invece quando si studia la parte interiore cambia si vuole cambiare le nostre qualità interiore i desideri interiori proprietà intenzione qualcosa è cambiato in noi che cosa neanche sappiamo di preciso noi dobbiamo elevarci al di sopra in un'altra sensazione del mondo nella qualità di d'azione verso di da noi verso gli altri ma non verso di noi verso la ricezione quindi questa informazione in noi la deve fare la luce superiore or ma chi luce circondante e la fa gradualmente tutto il tempo tutto il tempo agisce su di noi certo ci vuole del tempo e anche se fa sempre questa cosa a lui lei da solo noi comunque dobbiamo aiutarla l'accelerare accelerare la sua influenza su di noi la possiamo fare quindi per questo se noi allora facciamo come dice di questo il libro dello zoar punto 2